Buongiorno, 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 allora, 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 volevo dirvi in questo video che il freddo non è mio nemico, il freddo non è mio nemico, sono abituato al freddo e non è mio nemico, è un vero nemico di un senza tetto, ricordatevelo sempre, è la pioggia, perché non sai dove dormire, ma altrimenti, guarda c'è l'ombrello, vedete, ma il freddo non è mio nemico, anzi a me piace il freddo, a me piace più i mesi invernali che i mesi stili, l'estimo non va troppo caldo, puzzi subito, un po' più parole, ti devi fare più dolce, invece nei mesi invernali ti può fare meno dolce, ma il freddo non è mio nemico, io vedo che vi preoccupate per me, vi dite sempre, aspetta, andare via dalla struttura per il freddo, il freddo, ma il freddo non mi spaventa, mi spaventa di più la pioggia, mi spaventa di solo questo, il freddo non è mio nemico, anzi è mio amico, quando venivo con le coperte la sera, quando l'ho a letto, sai come sto bene? Il problema è la pioggia ragazzi, il problema è la pioggia, il muoversi sotto la pioggia, andare nei costi quando piove, avere la mantella, quello è il problema, il freddo non è mai stato un problema, e niente, tutto qui, volevo dirvi solo questo, non vi preoccupate per me ancora, non ho deciso se lasciare a noi, quindi non vi preoccupate, aspettiamo un altro po', il 21 c'è un druttore, non sa che lo mandano a quel paese, perché non ho bisogno di questa terapia, io credo anche che se uno sta schizofrenico, se è paranoide, deve essere paranoide schizofrenico, perché le cure che mi hanno dato mi hanno addormentato, non ero sempre a dormire, ora voglio un po' svegliarmi, niente, quindi il dottore mi sa che lo manda a quel paese, perdonatemi, va bene, comunque nulla, il fine era questo, non vi preoccupate per il freddo, il freddo non è un problema, il problema è la pioggia, e quella è un casino, quello è un casino, perché sì, quello è un vero casino, buona giornata, guaiù!